L'anno 1866 presentò un bizzarro avvenimento, un fenomeno inspiegato e inspiegabile che certamente nessuno ha dimenticato. Senza parlare delle voci che spargevano agitazione tra le popolazioni delle città portuali e sovrecitavano l'opinione pubblica all'interno dei continenti, un'emozione particolare si diffuse tra la gente di mare. Mercanti, armatori, capitani di lungo corso, clippers e masters d'Europa ed America, ufficiali delle flotte militari di tutti i paesi e dopo di essi i governi dei diversi stati di tutto il mondo considerarono il fatto con la più profonda preoccupazione. Effettivamente da qualche tempo vari bastimenti avevano incontrato in mare una cosa enorme. Un oggetto lungo, fusiforme, talvolta fosforescente, assai più grande e più veloce d'una balena. I fatti relativi a tale apparizione, registrati nei diversi giornali di bordo, concordavano abbastanza nettamente sulla struttura dell'oggetto o dell'essere in questione, sulla velocità sbalorditiva dei suoi movimenti, sulla insolita potenza della sua locomozione, sulla vita particolare di cui sembrava dotato. Se si trattava ad un cetaceo, esso superava in volume tutti quelli classificati sino allora dalla scienza. Né Cuvier, né la Sapède, né il signor Dumeril, né il signor Catrefage, avrebbero mai ammesso l'esistenza di un mostro simile, a meno di averlo visto, letteralmente visto coi loro propri occhi di scienziati. Benvenuti ad un nuovo episodio, il brano in apertura che avete sentito è tratto da 20.000 leghe sotto i mari di Jules Verne, che è il romanzo di cui parliamo in questo episodio. Allora, anzitutto qualcosa sull'autore, Verne, uno dei più famosi, se non il più famoso romanziere d'avventura francese, che nacque nel febbraio del 1828 a Nantes da una famiglia borghese piuttosto agiata. Dopo il liceo intraprese studi giuridici, ma quello che realmente gli interessava era il teatro, e siccome teatro voleva dire Parigi perché lì era il grande teatro, lui si spostò lì, dove conobbe Dumas padre nel 1849. Dumas gli consentì di rappresentare una commedia in versi nel suo teatro, e fu un buon esordio per Verne, riscosse i consensi della critica. Continuò nel frattempo a studiare, visto che il teatro non gli garantiva abbastanza da vivere, per qualche tempo intraprese il mestiere di broker, e quindi per un po' di anni fece contemporaneamente il mestiere di finanziere e quello di scrittore. Il vero successo gli arrivò poi nel 1862, quando presentò all'editore Etzel cinque settimane in pallone. Filmò poi con quest'editore un contratto ventennale, il romanzo divenne un best seller, sicché Verne poté definitivamente abbandonare la finanza per dedicarsi completamente alla letteratura. Dopodiché inanellò un successo dopo l'altro, quindi i romanzi più noti, Viaggio al centro della terra, Dalla terra alla luna, Ventimilale che sotto i mari, Il giro del mondo in 80 giorni, e tanti altri. Continuò sempre a scrivere opere teatrali, peraltro alcuni dei suoi romanzi ebbero adattamenti a teatro. Con i sostanziosi guadagni che ebbe dai romanzi e dal teatro, poté trasferirsi in una cittadina sull'estuario della Somme e comprarsi una barca, la Saint-Michel, dove trascorreva quanto più tempo poteva, dove aveva una sua piccola biblioteca, vi componeva anche alcune sue opere, e quindi vediamo che tutti i riferimenti relativi al mare e alla navigazione che troviamo nei romanzi di Verne gli derivano proprio da questa sua grande passione. Nel corso degli anni arrivò a guadagnare talmente tanto da potersi poi comprare uno yacht veramente di lusso, il Saint-Michel 2, a bordo del quale si tenevano feste. Verne era una persona che veniva descritta come molto affabile, simpatica, per questo insomma il suo yacht poi divenne un punto di ritrovo per molti contemporanei, molti suoi amici. Riguardo al carattere di Verne, uno dei suoi critici, già dell'epoca, scrive che Monsieur Jules Verne, parigino d'indole fino alla punta dei capelli e cosmopolita d'immaginazione, era un piacevole intrattenitore, ideatore inisauribile, mondano e selvatico, pronto tanto ad accorrere per primo all'inaugurazione del Salon, quanto a salpare in fretta e furia per il mare aperto, assieme ai pescatori delle coste oceaniche. Era uno spirito originale, un'aria affabile, sguardo e mano francamente aperti. Verne morì poi nel marzo del 1905, ma la sua fama non morì mai, è ancora ben viva. Nel corso della sua vita Verne scrisse tanti, tanti romanzi e anche numerose opere teatrali, tra commedie, vaudeville, libretti d'operetta e altro. 20.000 leghe sotto i mari fa parte di una trilogia. Una trilogia composta da i figli del capitano Grant, appunto 20.000 leghe sotto i mari e l'isola misteriosa. I legami tra questi romanzi sono pochi, quindi si possono leggere benissimo uno indipendentemente dall'altro, non c'è una continuità cronologica molto rigorosa, come potrebbe essere per una trilogia moderna, una fra tutti il Signore e gli Anelli. Quindi ci limitiamo soltanto a 20.000 leghe sotto i mari, perché è ben più di un semplice romanzo di avventura. Qui vediamo la nascita di quella che poi sarà la fantascienza. Verne si può ben considerare il padre della fantascienza, in particolare di quella che poi verrà chiamata, circa 60 anni dopo, la Hard Science Fiction. Il perché lo vedremo tra poco. Prima parliamo del romanzo, dei personaggi e facciamo qualche confronto con altri romanzi d'avventura di cui abbiamo parlato, perché ce n'è da fare. Il romanzo, che fu pubblicato nel 1869, sempre dall'editore Etzel, si apre con un mistero. Nell'anno 1866 si verificano dei fenomeni inspiegabili e misteriosi, nei mari e negli oceani del mondo. Viene avvistato un qualcosa, un grosso oggetto, una grossa creatura, che in alcune occasioni si scontra o danneggia delle navi. Scopriremo più tardi che in particolare sono danneggiate navi inglesi. Questa creatura è una creatura sottomarina. Gli incontri, quindi, sono caratterizzati dall'essere fuggivoli e senza preavviso, perché queste navi non sono mai pronte ad un incontro con un grosso essere o mezzo sottomarino. Si apre quindi un acceso e vasto dibattito, nei salotti, nelle accademie, sui giornali, in tutta l'opinione pubblica, su cosa possa essere questo essere. Le ipotesi si spregano, sono delle più variegate. E viene coinvolto anche uno dei protagonisti. Stiamo parlando del professor Aaron Hux, che è un professore supplente al Museo di Storia Naturale di Parigi, che è stato autore di un'opera in due volumi intitolata I Misteri dei Grandi Fondali Sottomarini. Quindi un po' un esperto in materia, che l'anno successivo scriverà un articolo sul New York Herald, molto circostanziato, nel quale si discutono le varie ipotesi. Si dice che, in effetti, dei grandi fondali marini noi sappiamo ben poco, e lui cerca di dedurre, dagli elementi che sono stati raccolti finora, dai vari avvistamenti, dalle testimonianze, che si debba trattare di un narvalo gigante. Di lì a poco la Marina degli Stati Uniti si decide ad armare una spedizione per cercare questo essere e porre fine a tutti questi incidenti che causa. Viene chiesto quindi al professor Aaron Hux, in quanto esperto di animali marini, è di unirsi alla spedizione. E' sì che lui si imbarca con il suo fido maggiordomo, con Sale, a bordo della nave della Marina degli Stati Uniti, che si chiama la Abram Lincoln. Conosciamo il terzo personaggio del romanzo, che è Ned Land, un baleniere. Dopo lunghe ricerche, la Abram Lincoln riesce a trovare questo misterioso essere sottomarino, che si rivela essere un qualcosa che, onestamente, l'equipaggio della Abram Lincoln non si aspettava. Ovvero un qualcosa di molto grande, che da fuori sembra un pesce, ma che resiste benissimo alle palle di cannone di una nave. Dopo essere stato attaccato, questa cosa reagisce, una cosa che, vediamo, è dotata di proprietà elettriche, perché emette un grande allone di luce. Dopo essere stato attaccato, dicevamo, reagisce e le cose per la Abram Lincoln si mettono male. I nostri tre finiscono in male e vengono ripescati dall'equipaggio di quello che si rivela essere un grande mezzo sottomarino. Un mezzo che è comandato da un interessante e bizzarro individuo, il capitano Nemo, che è il quarto, a questo punto, personaggio del romanzo. I nostri tre, quindi Aron Hux, Consail e Ned Land, vengono di fatto catturati da Nemo, vengono fatti prigionieri. Da questo momento in poi, loro avranno una parte piuttosto passiva nelle vicende seguenti. E oggettivamente il romanzo non è caratterizzato da molta azione. Da qui in avanti, il romanzo essenzialmente è una grande, lunga storia di esplorazione che ci porterà in giro per tutti i mari del mondo. Questo capitano Nemo è piuttosto misterioso e già il nome lo dice. Richiama il Nemo, cioè il nessuno, quel nome che Ulisse disse a Polifemo. C'è un altro piccolo mistero riguardo a Nemo. Allora, su questo romanzo viene detto ben poco della sua biografia. Sappiamo che è un difensore degli oppressi che ha un conto in sospeso con gli inglesi e a un certo punto c'è una vendetta. Capiamo anche che cosa fa lui per i mari, perché ha poi danneggiato alcune navi. Sapremo il suo nome soltanto nell'isola misteriosa, perché ricompare anche lì. E lui è un principe indiano, il principe Dakar. In origine, però, Nemo era polacco. Era un polacco che voleva vendicare la morte della sua famiglia avvenuta durante la repressione dell'insurrezione polacca del 1863-1864 contro l'impero russo. E quindi i russi erano quelli che avevano ucciso la famiglia di Nemo. L'editore Hetzel non gradì questa cosa, perché si temeva di poter urtare l'alleato russo, visto anche che i romanzi di Verne erano molto letti. E allora l'editore chiese a Verne di cambiare questi dettagli. Qualcosa di queste origini, però, sono rimaste, perché se è cambiata la nazionalità del nostro Nemo, non è cambiata granché la sua cultura. Infatti vediamo che Nemo conosce varie lingue europee, ha studiato per tanti anni in Europa, conosce il latino, e la sua ampia biblioteca è fatta tutta essenzialmente di testi occidentali. Come dicevamo, il Nautilus compie un lungo, lungo viaggio nei mari, ma la meta, lo scopo, non è mai dichiarato. Più volte i protagonisti si chiedono dove voglia condurli il capitano Nemo, e se e quando la loro prigionia finirà. Soprattutto Ned Land si dimostra molto insofferente riguardo al fatto che lui è un prigioniero. Anche se hanno dei grandi comfort, perché questo Nautilus è un mezzo incredibile, è tutto alimentato dall'elettricità, ha una vasta biblioteca al suo interno, un piccolo museo con varie meraviglie e curiosità che Nemo man mano ha raccolto durante gli anni. Una sorta di Wunderkammer e alloggi di tutto lusso, cibo in abbondanza. Sono trattati bene effettivamente questi prigionieri. Tuttavia Ned Land, che è abituato a tutt'altra vita, è un baliniere, non è che sia proprio contento di essere rinchiuso nel Nautilus. E non sappiamo nemmeno di preciso perché Nemo si rifiuti di lasciare i naufraghi sulla prima isola da lui incontrata. Vediamo che è estremamente prudente a non farsi vedere, tranne quando vuole danneggiare qualche nave. In quel caso lo fa in maniera molto rapida, tant'è che appunto i nostri tre sono i primi ad aver capito davvero che cosa sia quella creatura misteriosa dei mari. Vediamo un po' il viaggio che compie il nostro Nautilus, questo mezzo straordinario all'avanguardia. L'incontro-scontro con Nautilus avviene il 5 novembre del 1867 a circa 200 miglia a sud dalle coste del Giappone, nel Pacifico. Dopodiché si dirige a est verso le isole Sandwich, poi verso le Hawaii. Piega a sud va verso la Polinesia francese, isole Marchesi e Tahiti, dopodiché verso Vanikoro, che è Papua Nuova Guinea, isole Salomone. Si avvicina ulteriormente all'Australia, in particolare all'Australia del Nord, attraversa lo stretto di Torres, che la divide dalla Nuova Guinea, va verso Timor, l'Oceano Indiano, poi il Mar Rosso, e arriva nel Mediterraneo adottando una soluzione molto interessante. Ricordiamo che all'epoca ancora lo stretto di Suez non era stato completato. Nel Mediterraneo si ferma a compiere un qualcosa nei pressi di Creta, dopodiché esce attraverso lo stretto di Gibilterra e risale un po' la Spagna. Qui, di fronte alla Spagna, fa vedere dei grandi relitti di navi, poi piega verso sud, attraversa l'Atlantico e giunge in un posto incredibile, una antica città completamente sommersa. Vediamo Atlantide. Dopodiché si dirige verso il mare dei Sargassi fino al Polo. Torna a Nord, quindi dal Cap Horn, che è la punta sud delle Americhe, fino alla foce del rio delle Amazzoni e imbocca la corrente del Golfo del Messico fino all'Irlanda. Prosegue fino alle Firehiver, che stanno tra Islanda, Scozia e Norvegia, e qui i tre evadono. Finalmente Ned Land riesce a portare a buon fine il suo piano, il suo desiderio. E i tre evadono proprio poco prima che il Nautilus venga risucchiato da un grande maelstrom. I tre protagonisti poi trovano rifugio in una isoletta lì vicino, fanno ritorno al mondo civilizzato e in effetti noi rimaniamo con punto interrogativo riguardo alla fine di Nemo e del Nautilus. Tanto è stata misteriosa la sua comparsa, così lo è la sua fine. Reincontreremo poi Nemo nel terzo libro della serie, quindi l'Isola misteriosa, e lì Nemo troverà proprio la sua fine. Come dicevamo, il romanzo è un unico grande viaggio. Per la maggior parte del tempo i protagonisti stanno a bordo del Nautilus e vedono questo meraviglioso mondo sottomarino popolato da creature incredibili, un viaggio che ovviamente stupisce ed entusiasma il professor Aronax perché stimola incredibilmente la sua vena scientifica. i protagonisti si concederanno ogni tanto delle passeggiate sottomarine utilizzando degli scafandri andranno anche qualche volta a caccia e qui vedremo letteralmente delle foreste di coralli di alghe ma come dicevamo l'azione effettivamente è molto poca. Il romanzo per quanto privo di azione falleva più sul senso di meraviglia suscitato da questi incredibili panorami sottomarini da queste creature da questa vegetazione e da questi ambienti che per una persona di superficie in effetti sono del tutto alieni. Nautilus è descritto con dettaglio e cura in maniera che sia verosimile questa è una caratteristica di Verne teniamo presente che il primo sommergibile elettrico veramente operativo è del 1888 i tentativi precedenti onestamente erano mezzi scarsi e inadeguati con pochissima autonomia e qui vediamo una interessante caratteristica di Verne ovvero che Verne amava precorrere le conquiste della scienza ma non stravolgerle o smentirle con la conseguenza che per quanto le sue storie a volte possano risultare inverosimili le leggi della fisica o della chimica non vengono minimamente manomesse o comunque non in modo intollerabile poi c'è da notare la sua grandissima attenzione ai dettagli e alle nozioni geografiche e relative agli animali e vediamo che le posizioni e i luoghi che incontra il Nautilus sono accurati e frutto di documentazione per l'appunto gli animali visti dai nostri protagonisti sono tutti elencati a volte anche con i nomi latini le descrizioni sono abbastanza accurate e quindi c'è questa forte sensazione di verosimiglianza c'è anche da osservare che questa accuratezza a volte in Verne sfocia nella pedanteria perché tende ad essere enciclopedico vediamo subito una differenza con Salgari e Salgari usa i particolari e i dettagli su cui si è documentato per creare una forte immersione del lettore quindi leggendo Salgari sembra proprio di essere in quei posti e con Verne si ha più la sensazione di essere dentro un'enciclopedia che in un ambiente vivo ciò nonostante lui è molto abile nel suscitare la meraviglia del lettore è interessante quindi leggere in proposito quello che scrive Jules Clarety che fu un critico uno dei primi critici di Verne in un suo saggio del 1883 quindi 14 anni circa dopo l'uscita del romanzo lui dice che bisogna sempre lasciare all'uomo la sua reazione di sogni perfino oggi nell'epoca meno idealistica che la storia abbia mai conosciuto oggigiorno la scienza ha preso per la collottola l'epoca presente e non contenta la scuote altresì con una certa ruvidezza determinata a scrollarle di dosso tutte le sue illusioni sicché nel momento stesso in cui la fiabba cercava rifugio nel telefono era naturale che un narratore risarcisse il nostro tempo delle sue aspirazioni alla fantascienza in racconti che godono oggi di larga popolarità il che è appunto ciò che ha fatto conseguendo risultati di rara felicità l'inventore il cui operato mi propongo qui di riassumere verso sommi cavi l'utilizzo della parola fantascienza è un po' una libertà di chi ha tradotto questo articolo perché in originale è fantasia scientifica però chi ha tradotto ha colto in pieno il punto e lo spirito perché soprattutto vediamo nel ventimila leghe sotto i mari l'attenzione diverne per spiegarci come funziona il nautilus come è alimentato come si rifornisce di aria come Nemo poi riesce ad ottenere il carburante come si immerge eccetera eccetera beh questa attenzione ai dettagli questa base di tecnologia è quello che poi effettivamente ritroveremo per bene molti anni dopo nella hard science fiction ad esempio quella di Highline di Asimov riguardo alla verosimiglianza della scienza nelle opere di Verne questo suo rendere credibile il fantastico è interessante notare un'altra critica scritta all'epoca l'immaginazione di Jules Verne possiede così tante preziose risorse da costringere il lettore confuso a chiedersi se tutto ciò che lo scrittore gli ha descritto sia successo davvero qual è il confine che separa la finzione dalla verità l'autore ha forse soltanto anticipato le future scoperte della scienza che consentiranno nell'arco del secolo a venire di realizzare concretamente tutti questi viaggi mirabolanti dopo tutto perché mai tutto ciò non dovrebbe succedere davvero cent'anni fa colui che avesse preteso ritrasmettere i propri pensieri da Parigi a Londra in pochi secondi o di potersi addirittura regare fisicamente dall'una all'altra città nel giro di poche ore sarebbe stato considerato un visionario o un burlone millantatore forse tra un centinaio di anni la scienza ci avrà rivelato nuovi segreti e i sogni di Verne finiranno per trasformarsi in altre tante realtà e questo è successo poi e è interessante vedere come già all'epoca si ponessero queste questioni se davvero poi saremmo riusciti a raggiungere i traguardi che si leggevano nei romanzi di fantasia scientifica ed è anche uno dei motivi del fascino esercitato dalla fantascienza meglio da un certo tipo di fantascienza riprendiamo un attimo il saggio di Clare D lui ci dice che Jules Verne è stato quello che ha risolto il problema di come ridestare l'interesse per l'avventura tra gente che veste giacca e cravatta palto e ghette da viaggio il suo Phileas Fogg protagonista di Il giro del mondo di 80 giorni e il suo capitano Atteras sono gli Athos i Portos e i Monte Cristo di un'era pratica cui è ben noto il valore degli assegni dei biglietti di viaggio e dei telegrafi oggi come oggi gli affondi dei moschettieri e i colpi segreti di Nevers inferti dagli spadaccini susciterebbero più di un sorriso scettico ancora una volta l'umanità ha sempre bisogno della sua dose di sogni ognuno di noi alla conclusione della sua giornata il più delle volte uggiosa e mesta sente la necessità di spalancare una sorta di lucernario sull'infinito urrà per quei racconti che ci consolano dalle vicende della quotidianità quindi Verne è uno che aggiorna l'avventura ai borghesi gente più pratica e sempre Clare D ci dice che Verne ha pagine di rara potenza e scritte per di più in uno stile molto pulito nella sua alacrità tutta francese ed è appunto ciò che riuscì a sedurre perfino i letterati che piacqua e i curiosi che svagò i dotti come un grazioso paradosso e conquistò i più giovani con le attrattive di una scienza non indigesta e questo è un commento molto interessante e aggiunge poi che solo Verne fino all'epoca in cui scrive Clare D è riuscito a conferire un certo grado di credibilità a tali pittoresche e divertenti fantasie per improbabili che possano essere Clare D aggiunge sullo stile di Verne che l'incanto che lui esercita è dovuto alla sua abilità nel fare appello al gusto del meraviglioso al piacere dello stupore alla sete di conoscenza e Clare D aggiunge che il lettore nei romanzi di Verne incontra ad ogni pagina qualcosa di nuovo e di imprevisto il tutto condito abilmente con intermezzi comici imprevisti e piacevolissimi e qui veniamo ad un concetto già espresso ad esempio per riguardo ad Haggard e le miniere di Re Salomone saper spezzare la trama e la narrazione con alcune battute ironiche è importante in questo romanzo questa comicità è espressa dal personaggio di Consail che in francese letteralmente vorrebbe dire consigli che è il fedele domestico di Aaron Hux i tre personaggi sostanzialmente li abbiamo già visti perché Aaron Hux è quello saggio e quindi è anche quello che poi qui si fa entusiasmare da tutta quella parte di scoperta naturalistica ed è quello che non vorrebbe abbandonare il capitano Nemo Nedland è il personaggio più fisico robusto è un uomo d'azione genuino sanguigno e coraggioso e questa sua natura un po' selvatica gli fa sentire il Nautilus come una prigione e infine abbiamo la spalla comica che è Consail che si presta a numerose scenette buffe e che ha questo amore un po' pedantesco per la natura per cui lui sa tutti i nomi in latino dei vari pesci molluschi eccetera però per il resto non sa niente quindi non ha una vera cultura accademica come Aaron Hux e veniamo un po' di differenze ad esempio con i tre personaggi che avevamo visto nelle miniere di re Salomone beh qui nonostante il terzetto si riproponga vediamo però che la spalla comica con Sail rasenta un po' il grottesco perché spesso finisce per comportarsi più come un docile canetto attaccatissimo al padrone che come una persona e quindi dal mio punto di vista è meno efficace dell'equivalente spalla comica che c'era in Haggard il capitano Good per l'ulteriore approfondimento sull'importanza della comicità e su questi tre archetipi di personaggi rimando all'episodio dedicato ad Haggard e alle miniere di re Salomone perché qui non abbiamo tempo di ripetere le stesse cose e di fare lo stesso approfondimento stessa tipologia di personaggi l'avevamo visti anche nell'episodio precedente dedicato al mondo perduto di Conan Doyle Nemo è l'unico vero elemento nuovo che però come diciamo per la maggior parte del tempo rimane un mistero personaggio molto affascinante comunque come lo è il viaggio che compie e come lo è il suo fantastico mezzo questo mezzo avveneristico un mezzo che tanto colpirà l'immaginario collettivo non solo dell'epoca ma anche successivo del capitano Nemo sappiamo che lui sta perseguendo un suo progetto ha adoperato tutte le sue ingenti ricchezze per la costruzione del Nautilus che è avvenuta in grandissima segretezza in un posto nascosto e noto soltanto a lui quale sia di preciso il suo piano però non viene svelato in 20.000 leghe sotto i mari si intuisce che ha a che fare con questa vendetta nei confronti degli inglesi una vendetta che man mano che si va avanti nel romanzo capiamo che è un sentimento distruttivo ed è un qualcosa che in effetti anche i nostri tre protagonisti quindi Aronax Consail e Nedland capiscono e quando lo realizzano allora Aronax si rende conto che è il caso di andar via dal Nautilus perché non si sa poi in che guaglio andranno a finire seguendo ancora il capitano Nemo e quindi finalmente Aronax consente ad aiutare Nedland a preparare piano di fuga molto difficile perché questi stanno in mezzo al niente per la maggior parte del tempo la prima volta ovviamente le cose non vanno a buon fine e poi invece sì le donne sono completamente assenti da questo romanzo non ve ne traccia e qui poi l'altro grande protagonista di fatto l'altro grande attore è l'ignoto costituito dall'ignoto delle profondità marine e anche la meta da raggiungere è ignota facendo il paragone quindi con le miniere di re Salomone e il mondo perduto vediamo anzitutto che qui ci si concentra esclusivamente sul viaggio la differenza è che però in 20.000 leghe sotto i mari la meta è ignota e non solo tre dei quattro protagonisti poi non hanno un obiettivo alla fine sarà quello di evadere dal Nautilus d'accordo ma c'è differenza con gli altri due romanzi che dicevamo perché lì invece fin da subito sappiamo qual è la meta dei protagonisti che cosa vanno a fare perché i loro viaggi sono stati organizzati e una buona parte di quei romanzi ha a che fare esattamente con quei luoghi in 20.000 leghe sotto i mari non c'è di fatto nessuna grande impresa da compiere ned land arronax e consale sono per lo più spettatori di questo viaggio e non attori protagonisti con questo chiudiamo vi auguriamo buona lettura e ci risentiamo il prossimo episodio un po' Grazie a tutti.